Per la regione toscana mia madre non è né fragile né vulnerabile, è soltanto vecchia, ha 90 anni, è troppo vecchia. Io ho provato a registrarmi tramite il portale della regione, ma arrivo ad immettere il codice fiscale di mia mamma in cui c'è l'anno di nascita e lì rimango bloccato. Mi si dice che mia mamma è troppo vecchia. La signora Lea ha 90 anni, è gravemente malata, ma ancora ad oggi è in attesa del vaccino anti-Covid. Oltre a essere invalidata, gravemente invalidata, mentalmente, fisicamente, dall'Alzheimer, soffre di numerose patologie. Cominciamo col diabete. Mia madre è un soggetto cardiopatico, ha anche un'altra sindrome che è tipica di chi è allettato, che si chiama addensamento polmonare. Il suo apparato respiratorio è compromesso. Infine, un'altra patologia tipica degli anziani. È un ematoma subdorale cronico, è un sanguinamento, si addensa sotto la membrana del cervello, dovrebbe essere idratata costantemente, ha bisogno di felebo. Insomma, condizioni di indubbia vulnerabilità, ma nonostante ciò, per lei nessuna dose. Ad oggi, infatti, le vaccinazioni a domicilio, per gli anziani che non possono spostarsi da casa, non sono ancora partite. Per lei, il vaccino? Bisogna aspettarlo. Sine qua non. Mi dicono, entro il 25 aprile, arriveranno le dosi per poterle somministrare il vaccino a domicilio? A prendersi cura della donna, il figlio, Felice Cini, ex giornalista, che ormai da 10 anni, dall'agosto 2010, assiste l'anziana madre 24 ore su 24. Ne è infatti il tutore e così ogni giorno si prende cura di tutte le sue necessità, insomma, quello che oggi definiamo caregiver. Io ho dovuto rinunciare alla mia vita. Mi si dice che Scanzi è rientrato nella cosiddetta modalità in panchina. Però mi si dice anche che questa modalità in panchina è stata resa nota da metà marzo in poi. Scanzi era già iscritto da febbraio. Lo dicessero a tutti, tutti i medici di famiglia, che fossero sensibilizzati tutti i medici di famiglia di segnalare i casi prioritari. Oggi Felice sta pensando di presentare un esposto in procura per segnalare il caso della madre.